Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche oggi avete rotto il computer. Ragazzi, prima che inizi questi video, ricordatevi di attivare qua, iscrivetevi al canale, e ricordatevi che qui so, la campanella e io per altri video. Ragazzi, non sono mai sfruttato, oggi facciamo uno scherzo che ho finto che abbiamo rotto il computer, perché è buona missione, scusate. Ciao a tutti ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Oggi la mamma è a telefono, che sta telefonando a una persona, ora devo fare uno scherzo che ho finto che abbiamo rotto il computer. Ora facciamo un bello scherzo come una volta che abbiamo rotto la televisione, e lei si era arrabbiata tantissimo. Avete, facciamo uno bello scherzo alla mamma, dai. Oddio! Vieni qua, hai sentito qualcosa molto buccato. Che c'è? Che c'è? Vieni qua. Non c'è qualche... Guarda. Non c'è qualche scherzo, guarda. Ma tu la devi dare con i miei video. Non so. Questo scherzo è finito ragazzi, sono le 9.31 di sera, e stanno vedendo del 2002 l'Immacolata Concezione, che ancora io nascevo, che sono nata il 17 ottobre del 2005. Vediamoci la Madonna ragazzi. La 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 quindi ragazzi è arrivata sera e ora adesso ragazzi ed è sono le 10 e 12 quindi dai ora è di sera e andiamo ragazzi anche questo video è terminato di quello che si è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e che non diventi questo video su instagram qui sotto qui sopra se io prendiamo almeno 200.000 mi piace uscirà per dire alla prossima